Cari fratelli e sorelle, Nel Vangelo di oggi, Gesù affida ai Suoi discepoli un nuovo comandamento, quello dell'amore vicendevole. Ma perché parla Gesù di un comandamento nuovo? Qual è la novità di questo amore? L'amore del prossimo era già presente nell'Antico Testamento. Innanzitutto, ciò che sembra nuovo nelle parole di Gesù è il contenuto del prossimo, questo concetto. Per Gesù il prossimo non è soltanto il membro del proprio popolo, bensì lo sono tutti gli uomini. Come vediamo nella parabola del buon samaritano, dobbiamo rivolgerci con amore generoso verso tutti coloro che soffrono e sono bisognosi. Non solo gli amici, i parenti, quelli che possono ricambiarci l'aiuto offerto, ma tutti. Un'extensione così universale dell'ideale dell'amore da parte di Gesù è certamente una novità. Nel cielo di oggi, però, non sentiamo parlare il Signore del comandamento generico dell'amore. Gesù dice ai Suoi discepoli, Il nuovo comandamento, quindi, in questo brano, si riferisce all'amore vicendevole tra Cristo e i Suoi discepoli. Non escludere gli altri uomini, nemmeno i nemici, ma l'amore veramente grande e nuovo e questo amore vicendevole di Cristo e dei cristiani. 우리가 들은 오늘 복음에서 예수님이 말씀하신 사랑의 개명은 그냥 일상적인 평범한 그런 사랑이 아닙니다. 예수님은 당신 제자들에게 다음과 같이 말씀하십니다. 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 서로 사랑하여라. 너희가 서로 사랑하면 모든 사람이 너희가 내 제자라는 것을 알게 될 것이다. 이 말씀에서 나타난 새로운 이 개명은 그리스도와 그 제자들 사이에 긴밀한 사랑을 말하는 겁니다. 그렇지만 이 사랑은 다른 사람들을 배제하는 것이 아닙니다. 원수까지도 사랑하는 사랑을 뜻합니다. 이렇게 참되고 위대한 사랑이 그리스도의 사랑이며 그리스도인들의 새로운 사랑인 겁니다. 바랍니다. 이분도 사랑하는 것입니다. Il nuovo comandamento è collocato interamente nel contesto della passione, della morte e della risurrezione promessa di Cristo. Gesù ha amato tanto il Padre che per il suo amore e per obbedienza verso di Lui ha assunto anche la morte sulla croce. Il padre invece ha amato tanto il figlio che lo ha risuscitato dalla morte e lo ha elevato alla sua destra nella gloria. Nell'amore dei cristiani, gli uni verso gli altri, si manifesta e opera in questa terra l'amore del padre e del figlio. 3 계명은 그리스도의 순환과 죽음 그리고 약속된 부활이라는 맥락 속에 고스란히 스며져 있습니다. 예수님은 사랑과 순명을 통해서 십자가의 죽음을 받아들기까지 아버지 하느님을 사랑하셨습니다. 아버지 하느님께서는 당신 아드님을 죽음에서 부활시키시고 영광스러운 당신 오른쪽에 앉히시기까지 예수님을 사랑하셨습니다. Il comandamento dell'amore ci invita anche oggi ad aiutarci a vicenda prima di tutto nelle nostre comunità parocchiali dobbiamo conoscerci ed essere vicini gli uni agli altri sia nella gioia che nella tristezza. Se qualcuno nella comunità è malato, se ha problemi in famiglia, nell'educazione dei figli, nella cura degli anziani oppure nel mondo del lavoro, dobbiamo saperlo e dobbiamo cercare di aiutarlo. Nella città di Budapest stiamo preparando il prossimo congresso eucaristico internazionale che avrà luogo nel 2020. Nella preparazione pastorale di questo evento abbiamo messo l'accento sul rinnovamento delle nostre comunità parocchiali. Il compito è grande perché in Europa, specialmente nei paesi dove i cattolici sono la maggioranza, anche nella vita parocchiale sono diffusi un certo anonimato e stanchezza. È sempre attuale l'incoraggiamento di San Giovanni Paolo II sulla nuova evangelizzazione. Sì. e ciò che si sono attraverso fare una cosa che ciò che vi d'occhia, ciò che si è stato detto a farlo e dobbiamo bisogno di tutta. Il bucatello è 2020 in giocato il 3.0 di un'operazione in S.S.S.S.S.S.S.S.S.S. La parola di S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S. è stata una cosa che di più. 왜냐하면 유럽 특히 가톨릭 신자들이 대다수를 차지하는 나라에서 본당이란 곳 그곳에서의 생활은 어떤 면에서 상당히 활력을 잃어버렸고 익명성이 팽배해졌기 때문입니다. 그래서 성유한 바로 이세교황님의 새로운 보금화에 대한 강력한 권고는 항상 유효한 것입니다. 하지만 이 그리스도의 사랑은 없어야지에 따라가 나는 그의 침략을 지지하는 것입니다. 우리는 성유한호와 함께하는 문화와 함께하는 것입니다. 이 그리스도의 자신이 아주 좋은 것입니다. Per questo siamo particolarmente sensibili quando i cristiani in qualsiasi parte del mondo soffrono di persecuzione, oppressione o discriminazione. Siamo in unione di preghiera con tutti coloro ma cerchiamo anche di fare tutto il possibile per aiutarli con mezzi economici così come con la nostra voce in un'epoca in cui l'informazione è ormai globale. Siamo in un'epoca in un'epoca in un'epoca. Siamo in un'epoca in un'epoca in un'epoca. Per partecipare oggi al Charity Bazar organizzato in questa parrocchia che è un bel segno della solidarietà con i bisognosi. E chiedendo al Signore di poter sentire e vivere questo amore vicendevole che è il nuovo comandamento e la preziosa eredità di Gesù Cristo. che diamo la benedizione di lui, nostro maestro e nostro signore. Amen. Grazie a tutti.